ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerò i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci integratori o principi attivi da te assunti in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie ai suggerimenti condivisi in questo video esaminiamo l'integratore alimentare magnet attiva sanofi srl ultimo aggiornamento 7 aprile 2022 a cosa serve confezioni informazioni commerciali modalità d'uso descrizione e caratteristiche avvertenze ingredienti a cosa serve magnet attiva è un integratore appartenente alla categoria degli inter per la funzionalità cerebrale memoria attenzione conch e l'affaticamento psicofisico è commercializzato in italia dall'azienda sanofi srl informazioni commerciali titolare sanofi srl concessionario sanofi srl categoria di appartenenza integro per la funzionalità cerebrale memoria attenzione conch e l'affaticamento psicofisico forma farmaceutica polveri orali confezioni magnet attiva venti bustine orosolubili modalità d'uso il dosaggio consigliato è di uno bustine al giorno assunta senza acqua direttamente in bocca descrizione e caratteristiche mente attiva memoria e concentrazione avvertenze non eccedere la dose giornaliera consigliata tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai tre anni gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata e di uno stile di vita sano ingredienti informazioni nutrizionali per uno bustina per cento vnr magnesio fosfosorina centella asiatica acido pantotenico vitamina b5 caffeina 250 mg 60 mg 100 mg 6 mg 75 mg 66 per cento 100 per cento fonte codifa l'informatore farmaceutico per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web della codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero che la parma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato